eccomi qua con due cubi 3x3x1 non conosco la marca, li ho comprati su Z Cube esistono solo bianchi purtroppo a differenza del floppy cube dove si possono girare le facce solo in questo modo qui è possibile arrestare la faccia a metà e proseguire con le rotazioni con conseguente shape shift ecco qua e così via quindi questa è la caratteristica principale di questi cubi cubi tra virgolette più cuboidi direi allora questo rispetto a quello che ho recensito un bel po' di tempo fa sul mio canale ovvero il LAN LAN questo è superiore, nettamente superiore nel senso che il LAN LAN ha un problema di pop del pezzo centrale che io ho risolto col sistema dei pezzetti di carta e in generale si può risolvere tenendo il cubo così quando si ruotano le facce però in generale la rotazione per quanto questa sia comunque buona quella di questo cubo è superiore è veramente fluido gira veramente morbido molto bello lo facessero un ero me lo comprirei subito ne ho comprato i due veniamo al punto non c'è altro da dire su questo cubo è un 3x3x1 falli functional oppure conosciuto come super floppy cube allora questo cubo ne ho presi due è un cubo economico ma mi sembra un buon punto di partenza per lanciare il primo contest di questo canale allora premessa non so come come farvi gareggiare nel senso non so se fare un'estrazione oppure se realizzare un gioco magari con dei video nascosti da trovare adesso vedrò un pochino cosa inventarmi vorrei fare qualcosa di carino e divertente insomma per farvi passare del insomma 10 minuti piacevoli ecco tutto qua sul mio canale vediamo qualche regola per questo contest allora sicuramente per evitare doppioni secondi account eccetera gli account dovranno avere un'età minima di un mese quindi essere stati creati almeno un mese fa dovranno essere credibili quindi avere delle attività sul canale dei mi piace eccetera dovranno aver messo dovranno essere iscritti al canale best italian cube channel e iscritti alla pagina facebook queste sono regoline di base banali e importante quando partecipano al contest mi dovranno mandare in privato prima dell'estrazione l'indirizzo eventuale di spedizione del puzzle ovviamente tutto gratis a mie spese questo per evitare che uno appunto faccia due account o tre o quattro o dieci account e dopo in base a quale vince mi manda l'indirizzo con quell'account no l'indirizzo lo voglio avere da subito così che se c'è un doppione non è possibile utilizzare l'account con lo stesso indirizzo di domicilio quindi queste saranno le regole per quanto riguarda insomma il filtrare il più possibile gli eventuali furbi poi starò molto molto attento comunque a ciò che faccio anche perché insomma in generale i cuber in Italia non dico che ci si conosca tutti però a livello web più o meno sì quindi chi vuole partecipare me lo segnalerà in questo modo qua il puzzle in questione è il super floppy cube generico preso da z cube che voglio dire non è un cubone ma è un pezzo carino da avere nella propria collezione per chi ama questo genere di giochi aspettiamo che mi venga un'idea accetto volentieri proposte nei commenti per un'eventuale proposta per il contest quindi se qualcuno avesse un'idea di qualche giochino che potrei farvi fare di qualche caccia al tesoro particolare di qualche soluzione di qualche estrazione particolare non saprei vedete un pochino contattatemi scrivetelo nei commenti e fatemi sapere e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti